Musica Benvenuti al TG10 in apertura del telegiornale, oggi c'è la pagina della cronaca nera, vi parliamo del violentissimo e devastante incendio che la scorsa notte ha distrutto un'area di servizio di vieni scemi a Gela, indaga la polizia, la pista dolosa è quella più accreditata, domani in città è previsto l'incontro del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica promosso dal prefetto di Caltanissetta, vediamo. La tranquillità della notte tra i residenti di vieni scemi a Gela è stata squarciata dal violentissimo e devastante incendio che ha completamente distrutto il distributore di benzina Eni appartenente alla famiglia d'arma che sorge a pochi passi dall'istituto scolastico Paolo Emiliani Giudici, un rogo che non ha lasciato scampo all'attività commerciale, sono da accertare le cause anche se la pista dolosa è quella più accreditata. Le fiamme hanno avvolto il locale distruggendo tutto fortunatamente il fuoco, non ha attaccato le pompe di erogazione del carburante, è stato prontamente spento dai pompieri del locale di staccamento i quali hanno scongiurato il peggio. Le indagini sono dirette dalla polizia del locale commissariato agli ordini del dirigente Francesco Marino, requisite le immagini del sistema di videosorveglianza collocate nell'area di servizio. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare il cagnolino di proprietà della famiglia d'arma che si trovava all'interno del locale. Questa mattina, così come si vince dalle immagini, si è presentata una scena surreale agli occhi di tutti, un'attività commerciale totalmente rasa al solo. Il distributore di benzina di Vieniscemi è attivo da due anni a questa parte e i proprietari, subito dopo l'inaugurazione, si sono sempre adoperati al fine di renderlo più accogliente e confortevole per i clienti. Per domani a Gera, il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Interverranno i vertici provinciali della Forza dell'Ordine, il procuratore della Repubblica, Fernando Asano, e il sindaco Domenico Messinese. Si farà il punto su quanto sta accadendo in città, un approfondito esame del comprensore gelese, recentemente interessato dal riacutizzarsi di episodi di criminalità, tra cui ultimamente le pistolettate all'indirizzo di due panifici. Cambiamo argomento e parliamo della festa dell'Unità Gela. Appuntamento da domani a domenica alla Villa Comunale Garibaldi. Sentiamo. Ritorna dopo tanti anni la festa dell'Unità a Gela. Si svolgerà la Villa Comunale Garibaldi. Claudia Crizza, le chiedo subito come sarà articolata la manifestazione. La manifestazione sarà articolata in quattro giornate, dal 20 al 23 di ottobre. Si svolge appunto come lei ha detto alla Villa Comunale e sarà un programma ricco di dibattito politico che verterà sui temi importanti come quello dell'agricoltura e delle prospettive di sviluppo che questo settore può rappresentare per questo territorio. Non solo per Gela ma per tutta la provincia e per il territorio del nostro Golfo perché appunto la festa dell'Unità è di tipo provinciale e non è soltanto a livello locale ma è di spicco provinciale. Quindi si parlerà di agricoltura, si parlerà di scuola e di tutto il mondo scolastico, di pari opportunità e anche di giovani e di come il Partito Democratico intende aprire e rappresentare le prospettive di sviluppo anche attraverso i giovani democratici. Ma gli appuntamenti sono pomeridiani? Gli appuntamenti sono pomeridiani dalle 18 fino a tardasera perché oltre al dibattito politico tra l'altro vi sarà un intrattenimento di spettacolo come è tipico della festa dell'Unità. Però al centro degli appuntamenti ci saranno gli incontri con personalità di spicco sia a livello nazionale che regionale del Partito Democratico che verranno a portare le novità normative in termini di sviluppo nei settori dell'agricoltura ma anche della scuola e del mondo femminile che non mancheremo di cogliere. Ma sarà anche l'occasione per ritrovare voi l'Unità all'interno del Partito Democratico considerato che c'è un PD a Gela, dati oggettivi alla mano spaccato? Noi la festa dell'Unità non vogliamo parlare di come ritrovare l'Unità perché ci saranno altri incontri come già ce ne sono stati e ci lavoriamo sempre quotidianamente. Ciò che conta è che il Partito Democratico, per chi è nel Partito Democratico, lavoreremo insieme per cogliere questa opportunità perché la festa dell'Unità rappresenta un'opportunità in termini di sviluppo economico e in termini di centralità di Gela come città del Golfo per rappresentare alla città le prospettive di sviluppo economico che noi vogliamo intraprendere. Ricordiamo che si parte da domani dalle 18. Dalle 18, giovedì pomeriggio, dalle 18 e fino a tutto domenica sera. Il Movimento 5 Stelle inturre nelle strade e nelle piazze della Sicilia per informare sul referendum per dire no ad una riforma costituzionale che danneggia i cittadini. Venerdì 21 ottobre alle 19 in Piazza Martiri della Libertà a Gela, i portavoce del Movimento 5 Stelle all'Assemblea regionale siciliana e al Comune di Gela incontreranno i cittadini per spiegare le ragioni del referendum per esprimere il proprio no, dicono i pentastellati, ad una riforma fatta per favorire i poteri dei partiti ed escludere i cittadini dalle decisioni. Venerdì 21 ottobre alle 10 presso la sede della scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di Via Butera a Gela, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2016-2017, saranno presenti il sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Davide Farone e l'assessore regionale alla pubblica istruzione e formazione Bruno Marziano. Come ogni anno il dirigente scolastico Agata Quelli, in occasione dell'apertura del nuovo anno scolastico, proporrà un tema che sarà sviluppato durante l'anno nelle singole discipline, nonché nelle attività curriculari. L'anno scorso si era puntato sulla diversità e sull'inclusione attraverso un percorso intitolato Identità e Integrazione. Questo nuovo anno, partendo dalle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, l'attenzione verrà posta su un percorso dal titolo Costruiamo un nuovo umanesimo. Si svolgerà sabato prossimo presso la libreria Mondadori di Gela un seminario di pedagogia clinica. Intanto che cosa è la pedagogia clinica e che cosa studia? La pedagogia clinica rientra tra le professioni di aiuto alla persona e si rivolge alla persona da un punto di vista olistico, nel senso di completezza, di pienezza, di totalità, vede la persona nella sua totalità. Infatti la pedagogia clinica proprio non si rivolge, come comunemente si potrebbe pensare, a quella che è solo ed esclusivamente l'aspetto relativo all'infanzia o comunque ai minori, ma proprio l'aggettivo clinico sta a indicare quello che è l'obiettivo principale appunto di questa nuova scienza che è proprio il portare appunto la persona, intesa essa come minore, così come adulto o anche anziano, a quella che è proprio una possibilità, cioè dà la possibilità alla persona stessa, dal minore all'adulto passando appunto per l'anziano, di trovare da sé quelle che sono le proprie potenzialità. Quindi la pedagogia clinica stimola proprio quella che è, quelle che sono le potenzialità della persona stessa, le potenzialità che possono aiutare la persona appunto a uscire dalle situazioni di difficoltà che possiamo trovare tutti nella nostra vita. Recentemente i documenti che sono stati prodotti dal nostro ministro della pubblica istruzione parla molto di BES, quindi di soggetti che hanno dei bisogni educativi speciali, si parla di DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, ma poi si parla anche di lifelong learning, per cui ecco c'è questa crescita che in realtà è questo apprendimento che dura per tutta la vita. La pedagogia clinica proprio si rivolge anche a questi aspetti, è attraverso queste difficoltà sostanzialmente, che possono essere per esempio le difficoltà appunto dell'apprendimento, tant'è che con i suoi metodi e tecniche propri della disciplina, della scienza appunto pedagogico-clinica, si aiutano anche in questo caso, come per esempio nel caso dei BES o nel caso dei DSA, il minore ci si accompagna sostanzialmente, si creano quei percorsi individualizzati proprio per aiutare comunque sia a migliorare queste che sono le difficoltà appunto che si possono riscontrare nel caso di BES o comunque DSA. L'aspetto del lifelong learning è importante ed è proprio quello a cui si ispira sostanzialmente la pedagogia clinica proprio come evoluzione della persona nel corso della sua vita. Domani alle 9 gli studenti della scuola Ettore Romagnoli del progetto La legge è uguale per tutti saranno ospiti del Palazzo di Giustizia di Gela. La finalità del progetto è quella di incrementare nei giovani il senso civico ed il rispetto della legge, di renderli consapevoli che al compimento del 14esimo anno di età i reati da loro commessi vengono puniti dalla legge. Il progetto mira a far conoscere agli alunni il funzionamento della macchina della giustizia. I ragazzi assisteranno ad una udienza penale dinanzi al giudice monocratico Marica Marino che spiegherà agli studenti alcune fasi del processo penale. Nel corso di questa visita al Tribunale alle 10 saranno presenti il procuratore capo Fernando Asalo che ha accolto con favore l'iniziativa auspicando una sempre più forte collaborazione tra le istituzioni dello Stato ed il magistrato Silvia Passanisi che ha organizzato l'incontro. Il progetto ideato ed elaborato da Valeria Cuba in sinergia con il dirigente scolastico Sandra Scicolone nell'ambito delle attività finanziate per l'area a rischio ha ricevuto numerose adesioni da parte degli studenti e dai genitori. Sono aperte le iscrizioni dell'anno accademico 2016-2017 all'Uni3 l'Università dell'Eterità di Gela presieduta da Angela Scaglione Altamore. I corsi attivati sono storie e filosofia, naturalmente, letteratura, giornalismo e informatica, lingua francese e inglese, arte e architettura nel Rinascimento, laboratorio di arte creativa, la poesia ermetica ed erotica in Italia, storia patria, corso di medicina generale, educazione fisica e ballo. Le lezioni si svolgeranno dalla lunedì a venerdì dalle 17 alle 20 nei locali del liceo Eschilo di Gela per le iscrizioni rivolgersi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18.30 presso lo stesso istituto scolastico. La situazione di degrado in cui versa il cimitero di Farello a Gela sarà al centro di una manifestazione promossa dal Circolo Acli di Via Aretusa. L'appuntamento è previsto per sabato 22 dicembre alle 9.00. Lo scopo è quello di reclamare pulizia nei cimiteri e rispetto per i defunti. Uno degli organizzatori è Raffaele Di Gregorio. Sentiamolo. C'è stata un'interrogazione regionale al nostro presidente Crocetta sul grave disagio e grave stato in cui langue il cimitero di Farello. Voglio ricordare a tutti i cittadini, credo che il cimitero è un luogo sacro dove ci sono i nostri cari. Io la settimana scorsa andando a trovare la buonanima di mio fratello ho pianto immensamente per il fetore, la sporcizia e lo schifo che c'è a Farello. Per questo è una manifestazione dove invitiamo le persone civili pulite, educate a venire con noi e dare un segno di civiltà e di pulizia. Nient'altro, invito i cittadini tutti, ci sarà forse il Vescovo o manderà una rappresentanza. Abbiamo invitato la Questura a partecipare giustamente perché è una manifestazione. Tutte le altre forze sane e pulite della città a partecipare in massa. Ma non per venire lì con la scopa a pulire, ma per dare un segno di denuncia agli amministratori latitanti. Perché di questo si tratta. Io mi auguro di essere tanti alle nove. Staremo lì mezz'oretta, un'ora, ci sarà la tegra a raccogliere i sacchi di eventuali spazzature che raccogliamo, ci sarà la stampa, ci saranno i giornalisti, ci sarà un po' un ricurgito della città che vuole una città diversa. Ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno. Tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni possono recarsi all'ospedale di Gela il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 per sottoporsi alla mammografia gratuita. Una messa in suffraggio in ricordo del 54esimo anniversario della morte di Enrico Mattei si darà giovedì 27 ottobre alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Evangelista di Macchitella. Subito dopo verrà deposta una corona di alloro ai piedi del busto di Mattei che si trova in Viale Corte Maggiore. L'iniziativa è dell'Associazione Pionieri e Veterani Eni di Gela, presieduta da Giuseppe Lisciandra. Fai la cosa giusta, differenzi ai rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo, multimateriale, nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote, non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Un ambiente pulito e sano, basta un piccolo gesto. Siamo ritornati, siamo da parte del telegiornale. Anche quest'anno la pubblica assistenza Procivis, protezione civile, organizza un corso per soccoritori di livello avanzato per il servizio sulle ambulanze. È possibile recarsi presso la sede di via Ossidiana 23 per iscriversi e avere informazioni in merito alla formazione per essere abilitati al servizio di soccoritore sulle ambulanze. Il corso si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21. Sono 40 gli appuntamenti previsti e 75 le ore di tirocinio obbligatorie. Le lezioni saranno tenute da personale medico, paramedico e da soccorritori esperti. Il corso comprenderà lezioni teoriche, pratiche ed un periodo di tirocinio. Per informazioni rivolgersi allo 0933 938312. Per il quarto anno di seguito, fino al prossimo 23 ottobre, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo di Gela, diretto da Maurizio Tedesco, partecipano all'iniziativa internazionale Europe Code Week, migliaia di eventi in ogni parte d'Europa per offrire ai giovani e giovanissimi l'opportunità di iniziare a programmare la settimana europea della programmazione promossa dall'Unione Europea all'obiettivo di favorire un'appropriata educazione al pensiero computazionale. È essenziale che le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del futuro non da consumatori passivi ed ignari di tecnologie e servizi, ma da soggetti consapevoli di tutti gli aspetti in gioco e come attori attivamente partecipi del loro sviluppo. Saranno in 700 circa gli alunni della scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado dei treplessi, Centrale, Salonico e Giovanni XXIII, che aderiranno alla manifestazione. La sfida consiste nell'organizzare all'interno della scuola molteplici eventi di programmazione che coinvolgano il maggior numero possibile di studenti durante Code Week 2016. Si tratta di fare programmare a loro una piccola parte di un videogioco, di un percorso allo scopo di sviluppare loro il pensiero computazionale, cioè il ragazzo giocando e programmando un giochino o qualcosa che è piacevole per lui sviluppa la capacità di sapere risolvere problemi, sviluppa moltissimo la logica e quindi si rivela un'attività didatticamente molto rilevante che sviluppa una competenza trasversale per tutte le discipline. Parteciperanno anche i bambini della scuola elementare, i nostri alunni della scuola elementare ma anche i bambini di quinta che sono disponibili a fare questo percorso con noi. Noi li abbiamo invitati e frequentano settimanalmente delle lezioni, chiamiamole così, di coding, anche se poi si rivelano essere delle attività belle e coinvolgenti. Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo Quasimodo aderisce alla Europe Code Week, cioè la settimana internazionale della programmazione, con un evento dal titolo Coding for All che prevede la partecipazione di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado e degli alunni delle classi terminali della scuola primaria ad un'attività di coding della durata di un'ora e che si svolgerà questa settimana, quindi da oggi, da lunedì fino al venerdì 21. Come abbiamo potuto realizzare questo? Perché non è una cosa semplice, attraverso la formazione degli insegnanti. Abbiamo un team di circa 15 insegnanti che è stato formato dalla nostra referente, dalla professoressa Mariangela Curatelo, è stata appunto formata e che quindi è in grado di poter insegnare coding a tutti gli alunni della scuola media. Sarà presentato venerdì 21 ottobre alle 17.30 presso l'ex chiesetta di San Biagio a Gela il libro Tantumanité, scritto da Renato Collodoro. Dialogherà con l'autore, il giornalista Domenico Russello, l'iniziativa è della libreria Mondadori. Per ricordare Salvatore Zuppardo, a 18 anni dalla sua scomparsa e dopo i grandi successi delle precedenti edizioni del Premio Nazionale di Poesia alla Gorgone d'Oro, il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana a Salvatore Zuppardo indice ed organizza la diciassettesima edizione del prestigioso premio. Per informazioni, 0933 937474. I cuochi di Caltanissette, in occasione della ricorrenza di San Francesco Caracciolo, loro patrono, ancora una volta si sono messi a servizio della collettività con la loro professionalità e il loro genio creativo per offrire un pranzo ai meno fortunati che quotidianamente si recano alla Casa di Gerico, un gesto di solidarietà al quale hanno contribuito anche i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, senatore Angelo Di Rocco e il pasticcere Lillo De Fraia dell'Associazione Dugezio che per l'occasione ha preparato una torta. Oggi noi, nel mondo del cuoco, siamo solidari con queste attività e abbiamo preparato un pranzo proprio per quelle più bisognose. Abbiamo preparato un primo, un secondo, un contorno e poi un dolce. Per noi è molto importante questi momenti perché in qualche modo seguiamo l'idea di San Francesco Caracciolo perché lui prima è stato un nobile, poi dopo una malattia, ha tolto i vestiti da nobile, si è messo quello da povero e ha continuato a cucinare per i più poveri, ha dato la vita proprio cucinando per i più poveri. Grazie anche al nostro grande maestro dottor Salvatore Schifano che è stato il promotore di poter creare questo evento avendo padrono San Francesco, raccogliendo tutte le firme in tutte le province di cui anche noi a Carta di Sette abbiamo dato il nostro apporto. come io, ex Presidente della Federazione, sono stato invitato dal Vescovo a scrivere questa relazione e poter fare santo e protettore della Federazione Italiana Poco. Quindi è protettore in tutta l'Italia e anche in tutta l'Europa perché giustamente la nostra federazione è mondiale, non solo nazionale. Quindi noi cerchiamo sempre di poter dare il nostro lustro a questa manifestazione e di pubblicizzarlo anche ai giovani perché sono il nostro futuro. Un momento di festa preceduto dalla celebrazione della Santa Messa nella chiesa San Pio X, ufficiata da padre Alessandro Giambra che ha così voluto ricordare la figura di San Francesco Caracciolo che dedicò la sua vita all'amore verso il prossimo cucinando per i poveri e i bisognosi. Io veramente li voglio ringraziare per questo perché San Francesco, che si chiamava Ascanio, ha preso il nome di San Francesco d'Assisi era uno ricco, però che andava a servire dove c'erano i servi e proprio da mangiare ai poveri. E penso che è l'occasione per far conoscere ancora di più questa realtà che non è di San Pio X, perché non sono i parrocchiani di San Pio X che vengono a mangiare, ma di tutta la città. E quindi i cuochi che proprio ora vedranno che ci sarà cibo in più lo porteranno qua. Diventa un momento di solidarietà. Appuntamento col cinema all'antidoto di Gela e in proiezione il film Go With Me. Sono due gli orari, 19.30 e 21.30. Ed è scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'antidoto. Il cartellone, che comincerà il prossimo 23 novembre, prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco. L'abbonamento intero costa 70 euro, 55 euro ridotto per i giovani. Per informazioni ci sono tre numeri telefonici, 338-7143-293, 330-225-442, 0933-822707. E nuova stagione teatrale anche all'Eschilo di Gela, dall'8 novembre in scena i più grandi artisti italiani del teatro e della televisione Gabriele Garco, Ugo Pagliai, Raimondo Todaro, Marco Bocci, Mariangela D'Abraccio, Enrico Guarneri e tanti altri ancora. Per informazioni, regarsi in teatro ogni giorno dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20. Ci sono due numeri telefonici, 0933-911-892 e 345-5880-580. Vi ricordo che il prezzo dell'abbonamento è di 90 euro. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti